C'è un'ottima iniziativa? C'è un'ottima iniziativa? Di crederci, di non abbandonare se stesse le proprie idee e soprattutto di credere che il nostro paese offre tanto, è stato molto abbandonato e ha delle potenzialità che vanno semplicemente sfruttate, messe a reddito perché anche questo fa economia quella buona, non quella delle banche internazionali che fanno fallire mezzo mondo. Ritrovare le proprie radici secondo me è anche la chiave per ritrovare se stessi e far risorgere il proprio territorio.